Benvenuta nel paradiso di Ferre, sei pronta? Sì, prontissima! Abbiamo le mucche, abbiamo le pecore, abbiamo i maialini, abbiamo i polletti, abbiamo lo squid, abbiamo l'osterote, abbiamo il mushroom pet, abbiamo il ghast, abbiamo spider... Sono fantastici! Me li rubo tutti e me ne vado, ciao Steph! Sai che ognuno di loro... Ferre, dove stai andando? Ma perché salto così tanto? Ognuno di loro... Sono poteri che stai prendendo? Ognuno di loro ha dei poteri, ognuno di loro ti dà delle caratteristiche, ognuno di loro permette di fare cose, li puoi nominare, li puoi dare da mangiare, alcuni sono addirittura delle armi... Frecce di tutto, preparati perché proveremo un sacco di roba oggi E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E sono Steph e che sto giochendo a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui stiamo pronti a provare queste strane creaturine e i loro poteri magici Perché mi hai detto che fanno delle cose strane Se tu mi hai buttato un sacco addosso, io ho iniziato a saltare, quasi a volare Quindi qualcosa di strano deve succedere Già, allora ti dico, ci sono alcuni che ti danno dei buff, altre sono totalmente delle armi, altre ancora fanno cose proprio particolari Quindi avrai un po' di tutto Allora, partiamo ovviamente dal maialino per via di signor maialino Ferre, allora ti spiego un pochettino Innanzitutto prendilo, tieni, gli puoi dare il nome E se premi N puoi dargli totalmente il nome che vuoi Quindi basta che premi N, ti iscrivi il tuo nome Signor maialino, io glielo do Perché così è più felice Consolini un attimino, dovete aspettare Fatto, fatto, fatto Sapete che lei è sempre così Ok, allora tu eri in questo momento il signor maialino Ma non sai che cosa fa? No, ovviamente Allora, ti permette di mangiare la carne, diciamo cruda La carne che ti avvelena normalmente Quindi, ad esempio, adesso ti faccio provare Con un po' di carne di zombie Buonissima, tieni, mangiatene qualcuna Un po' schifo però Prova a mangiarla Bevo proprio E vedrai che il maialino ti permette di annullare l'effetto di fame Cioè l'effetto di avvelenamento che dà Hai visto? Vedi che non sono avvelenata? Assurdo Assurdo questo È utilissimo Si prende il peleno al posto tuo È un eroe, Steph È un eroe Io credo che ci sia perché i maialini riescono a mangiare qualsiasi cosa, capito? E quindi secondo me l'hanno messo per quello Tieni Ok Lui è la versione Ocelot, ok? Ok Non ti dico nulla e direttamente agisco Non ti dico nulla e direttamente agisco Tieni le mano, mi raccomando Dimmi che l'hai capita L'ho capita adesso Dove state andando, Creeper? Eh, avete paura di qualcosa? Chissà di cosa, Steph All'inizio non l'ho capita, ti dico la verità È un po' perplessa Per quello non te l'ho detto Perché dicevo Ah, ok, stanno scappando Però non capivo Poi ho realizzato È troppo vero Ma come potete Spieghiamo i consolini I Creeper hanno paura degli Ocelot su Minecraft Quindi l'animale Ocelot che tieni così in mano Fa lo stesso identico effetto E di conseguenza i Creeper scappano via letteralmente Io lo sto inseguendo, Steph Vai, Ferri, inseguilo Ok, allora questo qui è epico Cioè, secondo me è una roba meravigliosa Però passiamo a qualcosa di ancora più particolare Ok, vai Allora, aspetta Ti conviene tenere le mani e seguirmi Perché qualche Creeper ancora in giro ci sta Certo, cioè, infatti guarda l'ingiro Meglio non rischiare A prendersi il sole Ok, adesso metti lui Ok Però aspetta Questo me lo devo prendere anche io Per far vedere ai consolini Ok, vieni in acqua Ok Ok, vieni, 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 vieni Vedi? A parte che mi ha dato un pesce Ok, allora Nuotiamo super veloci Nuotiamo super veloci Vediamo meglio sott'acqua Sì E teoricamente non abbiamo neanche le bollicine, giusto? Perché io, allora Io sono in creative, va bene Ma Ferre non è in creative E se vedete non sta affogando né nulla Io però ho delle bollicine Ok, ma rimangono ferme Esatto, rimangono ferme i mobili Perfetto Non si stanno consumando Quindi ti permette di vedere bene sott'acqua Di andare molto più veloce nuotando E di non avere neanche problemi di fiato Questa è una cosa bella, sai perché? Perché io odio nuotare In Minecraft e in tutti i videogiochi Perché sei sempre lento E sempre noioso Invece questa è una figata pazzesca Bello, mi piace Lo so, lo so Questo è proprio super mega fantastico Il prossimo forse è ancora più utile Allora, inizia a tenerlo Ok Ok Per farti capire Ok Devo preparare qualcosina Non provare a leggerlo No, non sto leggendo niente Ok E tu direi Ma Stef, ma che cosa stai facendo? Ok Ta 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 Primi tasto destro No È una mucca bon meal Cioè non è bon meal Però Cioè guarda Guarda come crescono Bellissimo Tra bello Quanto sarebbe utile Una roba del genere Anche perché poi è infinita Giusto? Gli viene fame Intanto le devi dare da mangiare Però di fatto Ti fa crescere Ma come mai scusa se la mucca dei funghi Fa questo Secondo te? Non l'ho capito Mi sono chiesto anche io Infatti non me l'aspettavo Sinceramente mi aspettavo Qualche altro tipo di effetto Lo so C'è stato interessante Allora La prossima Secondo me ti piacerà molto La vedi Aspetta Aspetta Ok Ok È una banana Ok sì Tieni Ok Questa è la tua prima arma di oggi Come arma? Ma non posso avere per arma una banana Stef Hai come arma una banana Allora per me è un po' denigrante Sai com'è? Sono sempre stata abituata a armi giganti Girati Armi molto belle Dove sei? Metti il petino Ok Premi il tasto destro Mirando lo zombie Non hai bisogno di armi giganti Fere È fortissima Non posso uccidere dei mostri Tirando delle banane Stef Allora mettimene uno che non prende fuoco Pronta Vai Te ne metto tre Vai Una Due Vabbè È forte Per essere una banana è forte Me l'immaginavo molto più scarsa Vabbè È dieci volte più forte di un arco Fere Quindi è poco da dire Si consuma molto velocemente Perché ho tirato pochi colpi E sono praticamente a metà Però è davvero forte Ebbè mi sembra anche Eco che duri poco Perché è fortissima Ok Premi il tasto destro Non dovevi farvelo fare Abbiamo abbaggato la mappa Più che altro Sono comparsi dei cubi Io mi sono sfidata troppo Puliamo tutto Puliamo tutto Ok Ok Ripremi il tasto destro Tanto so che lo vuoi fare Questo non so Probabilmente è per fare qualche scherzo È bello Allora Ti avvicini a qualcuno Andiamo lontani dal villaggio Ok Sì aspetta Io non posso volare come te Steph Sì sì Corri dritta così Ok Io sono in alto Corri dritta e premita Sto adesso tutto il tempo Ok vado Eh ma non posso correre dritta Vai vai Premi destro Premi destro Continua a correre premendo destro Vai C'è scaricato No È già finito Aspetta che cosa mangia lui? Eh che mangia? Eh Favorite food Ah giustamente Giustamente la polvere da sparo Come abbiamo fatto a non arrivarci Ok te la butto Prendi 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 Mi sa che se li deve mangiare si dovrebbe ricaricare Teoricamente Allora aspetta che la devo mettere sempre Vediamo se funziona Vediamo Dimmi un pochettino Si è ricaricato? Ok corri dritta e premita Sto adesso tutto il tempo Vai 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 Secondo me Questo è il tuo preferito Cioè ci gioco tutto quello che vuoi Vai Scommetti? Non lo so perché sono tanti belli Eh non so se riuscirai Allora A convincervi sui Devi abbassarti Ok E premere il tasto destro Ciao Sei troppo carino Teoricamente se premita sto adesso ci puoi dormire Allora Feed me my favorite food to sleep Ok Allora mi sta dicendo di dargli da mangiare Col suo cibo preferito Ok Per dormire Indovina cosa gli piace? Eh la lana? La lana si Ovviamente Tieni Ma dimmi te Devi ridare anche la borsa Perché essendo morto Ho perso tutto Hai ragione Hai ragione Ho la borsa per dargli da mangiare Grazie Fere dammi un po' di lana Così potrei dormire Dai Fere ti prego Vuoi sentire davvero come parla? Vai Ciao Eh certo Tutti con la borsa Ci hanno per te Dammi un po' di lana Sì perché è la voce di questa faccia Hai capito? No aspetta Scusa Facendo fa fesseria Non glielo ancora ha dato Ignorando il fatto che hai fatto un disastro E mi hai creato tre letti Stanno anche seguendo No sono molto felice di avere tre letti Aspetta Ora ti ci fa dormire? No Non vogliono che io do Se tieni il pettino in mano E premi destro Ti fa dormire? No Ne creo un altro No senza shift Fere Ok Così Vai Questo forse va Questo forse va Mi dice puoi dormire di notte Ma non è notte scusami No si è rimesso giorno Ma sembra che io abbia dormito Perché è tornato giorno E si è sentita Una specie di sveglia Aspetta Allora Vai di nuovo È diventato Diventa Allora ok Ok ho capito Allora non fa l'animazione classica del personaggio che va a dormire Però passa il tempo Però passa il tempo Questo mi piace un sacco Dato che stiamo facendo un oggetto Ne facciamo un altro Ok Testo destro Portatile Sì Totalmente Sì Strabella È la cosa più bella del mondo Sì No? Bellissima È fantastica così Ogni volta che vuoi Ah c'è la cesta Ah sì facile Bellissima Lo vuoi vedere un miracolo Fede? Sì Ok Guarda eh Ok No Non sto volando No Non sto volando Lo so che non stai volando Stai camminando sull'acqua Sì Oh mio dio Guarda Fede Oh mio dio Vuoi provarci? Sì Mi stanno seguendo i letti Steph Un po' inquietante Tieni Ok Ah la spugna Sì Ok Camminano anche i letti Vieni l'acqua Non credo che possa notare Steph l'ho ucciso Mi sa che non vanno d'accordo con l'acqua Fede vabbè È andata così È stato triste Comunque Non volevo Ok Puoi camminare sull'acqua Sì Se prima il tasto destro Spawni dell'acqua Ok Sì Ok Ok E infine Se tu fai Shift Più destro Ciao Steph Aspetta mi posso rifare l'acqua Scusa Ma posso rifare Piano piano Ho fatto un disastro Eh ho notato Che stai facendo un disastro Steph Io non riesco a risalire Io pensavo ne togliesse poco poco Tu no? Eh non lo so Cioè vabbè Da una spugna così piccola Di certo non ti aspetti Lavoraggine Ho tolto l'oceano Eh sì Ho completamente Cioè guardami Mi vedi? Sì Ok guarda È assurdo Non è possibile Davvero eccessivo Ma è troppo figa però Troppo forte come oggetto Troppo E poi quando invece vuoi dare fastidio Prendi la spugna E dai fastidi a fare Sì ma io sto cercando di risalire In un punto Normale del mondo Steph Aiuto Lo so ormai Il mondo mi sa che non c'è più L'ho mezzo distrutto con questa cosa Non so quali farti vedere Ce ne sono talmente tanti Bellissimi ancora Aspetta però Ok Cosa? Qualcosa? No Visto che siamo vicini a Natale Che fa? Ti dà un regalo Oh ma lo puoi aprire Mi ha dato una mela dorata E adesso vediamo E se provi a rifarlo Ti dice che ti ha dato un regalo per oggi No Ho detto adesso mi apro un sacco di regali E me ne dai solo uno al giorno Non vale No è una cattiveria questo La so Adesso Gli ultimi due a fare Perché altrimenti dura troppo il video Cioè non possiamo stare qua a provarli tutti Sono troppi Sono troppo fantastici Però fateci sapere nel caso Se volete vedere altri video Dove li proviamo ancora Tieni Ok Ok Fai shift più tasto destro Ok Adesso corri dritta Ok Premi tasto destro Oh Strabello Te li sentite rumore Che fa il din din Sì Sì In pratica ti setti Uno spawn point E ti permette di teletrasportarti Istantaneamente Esatto Non è schiegata questa Esatto Adesso Vai Ultima cosa di oggi Ma no Che forse È la più etica Un altro dopo questa No Dai un'altra Un'altra Ne abbiamo fatto troppi Ne abbiamo fatto troppi fare Ok Vai Tieni Ok Avvicinati a una casa Questa Sì Ok Premi tasto destro Ripremi tasto destro Cos'è questa diavoleria Steph Quanto è figo Cos'è questa diavoleria È una figata pazzesca Lo so È bellissimo Continuo a farla lì Allora Voglio metterti in difficoltà Ok Devi dirmi Qual è quello che hai preferito Oggi In assoluto Il potere più bello Che ti è piaciuto Quello che ti è piaciuto di più In assoluto Fere No è impossibile dirlo Sono troppo belli vero No è impossibile Anche io Cioè è una cattiveria Doverne dire solo uno È difficile Perché sono tutti diversi In particolare in modo loro Quindi Boh Non lo so Sono gli animaletti E le creaturine Più fantastiche di sempre Cioè sono davvero incredibili E poi ne abbiamo ancora Tantissimi da provare Spero che se riesci a dire Lasciateci un like E se è la prima volta Che ho detto il nostro video Potete considerare Da iscrivervi Per non perdere i video Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.